Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il vice sindaco nonché assessore allo sviluppo economico, si occupa di turismo, Fabrizio Manzulli, se la profumano tanto e parlano di turismo. L'amministrazione Melucci parla di una città che ha raggiunto risultati in ambito turistico eccezionali, ma cosa dite? Voi non sapete valorizzare i beni archeologici, i tesori che noi abbiamo. Mi trovo qui in via d'Aquino, quasi ad angolo, con via Regina Margherita. Abbiamo i resti delle fortificazioni di epoca annibalica, fine III secolo a.C. Guardate come sono ridotte, sono piene di erbaccia e il famoso impianto di illuminazione, oltre che di areazione, non funziona affatto. Guardate il buio che c'è, i turisti non riescono a capire cosa ci sia qui sotto perché non ci si degna neanche di mettere un paletto con l'insegna, con la scritta, con la spiegazione, con la didascalia. Come si fa in tutte le città civili d'Italia, d'Europa e del mondo. Solo a Taranto non esiste questo, anzi dobbiamo ringraziare la fondazione Orosei che si è premurata di mettere un cartello indicante di cosa si tratta. Perché i turisti passano avanti e dietro e si domandano, dicono cosa c'è qui sotto, veramente se lo domandano pure i tarantini. Ma è assurdo, guardate, tutta l'erbaccia, non avviene una pulizia all'interno e non c'è illuminazione, tutte le luci, che pure ci sono, perché l'impianto elettrico c'è, guardate, tutte le vetrate a partire da qui, proprio da via Regina Margherita, andando oltre, guardate, tutto buio, tutto spento. Questo ci fa capire come l'amministrazione comunale sia insensibile alla cultura, insensibile rispetto al patrimonio archeologico, incapace di capire le ricadute economiche che derivano dalla valorizzazione delle risorse, dei beni culturali di Taranto. Questa è la Taranto di Rinaldo Melucci, la Taranto di Manzulli, la Taranto di quei consiglieri che ora esaltano Melucci dopo averlo denigrato, è il caso, per esempio, di Luca Contrario. Caro Luca Contrario, tu che parli di Taranto che ha raggiunto mette turistiche inimmaginabili, che c'è questa svolta, ecco la svolta. Ma questa è solo una delle immagini, perché fa capire proprio la mancanza di programmazione di un'amministrazione, che ripeto, non si degna di mettere un paletto. Quanto costa un paletto e un pezzo di plastica, di compensato, di quello che volete voi, di qualsiasi materiale, 20, 30 euro, 40 euro, quanto si può spendere? Per un minimo di cartellonistica indicante i reperti archeologici che sono qui sotto contenuti. E quindi, vedete, il degrado, l'abbandono, il buio. Il buio è uno schiaffo all'occhio, anzi, dobbiamo ringraziare il bar qui presente, che fa pulire le vetrate, perché le vetrate sono piene di polvere, perché nessuno dell'amministrazione comunale né dell'AMIU si degna di pulirle. E dobbiamo ringraziare quindi i volontari, i cittadini, le attività commerciali, che per dare un minimo di decoro alla città lo fanno a proprie spese, con i propri mezzi, con le proprie risorse umane e materiali. Questo perché si parla anche dell'AMIU che provvede al decoro della città, alla faccia. Insomma, non voglio tediarvi ancora, ma penso che vedere una ricchezza del genere, favolosa, così umiliata, e poi sentir parlare di turismo, di svolta, è qualcosa che veramente offende, che ha un minimo di sensibilità culturale, offende i tarantini.